Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla A1 in direzione Roma, code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e in uscita a Firenze Sud a causa della partita della Fiorentina, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Firenze Nord e Firenze per Itola in direzione Firenze. Sulla FIPILI code a tratti in entrambe le direzioni tra Lastra Assigna e Firenze Scandici, code in uscita a Lastra Assigna e a Cascina. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Impruneta. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!